Antonella Clerici tradita in pubblico, il compagno sorpreso a baciare un'altra. Durante la sua lunga carriera, Antonella Clerici ha spesso visto la sua vita privata raccontata dai media in moltissime occasioni, anche quando ha deciso di rompere il silenzio e parlare della sua bellissima storia d'amore con Vittorio Garrone. In questo contesto non sono mancati gossip di vario tipo, come quando è uscita allo scoperto con il suo ex compagno Eddie Martens o quando ha scoperto di essere in dolce attesa della figlia Mael. La stampa italiana ha seguito da vicino la vita di Antonella Clerici, anche durante momenti molto delicati, come la crisi che ha travolto il suo rapporto con Eddie Martens. Le foto del presunto tradimento di Martens sono subito finite online, cambiando per sempre la vita della Clerici. Duro colpo per Antonella Clerici, la conduttrice tradita in pubblico. La fine della relazione con Eddie Martens rappresenta uno dei periodi più difficili per Antonella Clerici, anche a causa delle foto pubblicate dal settimanale Chi che documentavano il presunto flirt. La stessa Clerici ha ricordato quel delicato periodo durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Ricordo quando sulla copertina di Chi pubblicaste le foto di Eddie con un'altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l'Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro. L'ex di Clerici beccato con un'altra. Le foto pubblicate dai giornali innescarono subito i rumor del gossip e una vera e propria caccia all'altra donna. Il magazine IlSussidiario.net ripercorse gli eventi salienti di quel gossip soffermandosi sul coinvolgimento di Stefania Sorrentino, vista insieme a Martens. L'attenzione dei media si concentrò su di lei, che decise poi di rilasciare delle dichiarazioni alla stampa, parlando proprio dell'incontro con l'ex compagno di Antonella Clerici. Intervistata dal portale CultWeb, come riportato dal magazine sopracitato, la Sorrentino rivelò Non sapevo fosse l'uomo di Antonella Clerici. L'ho scoperto quando me l'ha detto un amico. La Sorrentino ha poi continuato e concluso la sua versione dei fatti riguardo al gossip che l'ha vista protagonista di una vicenda che ancora oggi domina la scena nel gossip italiano. Ho provato una sensazione bruttissima, io non sono una rovina famiglie e sono contenta di non aver ceduto al suo corteggiamento.